Io ho voluto oggi comunicare attraverso un ingrediente, il tonno alla lunca, il ricordo della fettina, la fettina intesa come una fettina di carne che era l'attenzione, e lo è, l'attenzione della mamma verso il proprio figlio quando lo vede è magro, ammalato, per cui lo vuole nutrire al meglio e allora questa fettina deve essere tenera, di vitellina, quasi non masticabile e dove, dopo che la cuoce, ovviamente la condisce con olio e limone e dove metto, ecco, centralmente in questo tonno alla lunca, centralmente metto questo seme del limone perché vuole proprio lì ricordare il gesto della mamma dove la mamma non si preoccupa mai di togliere questo seme dal piatto però in questa imperfezione domestica c'è tutto l'amore verso il proprio figlio, verso la famiglia, verso la vita